la cena di giuno senza cena a sinistra che si è aperto bella valla non c'era c'era? non c'era non c'era non c'era non c'era casa ma c'era sempre divenza l'ho lasciato gli ha messo da taglio gli ha messo da quattro anni ma è capito è un bruttissimo rumore di pallasco sta andando a battere il pallo alla palla ha smarcato uno e sta crossando non c'era il pallo di pallasco non c'era no Eeeh! 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 Che scostra i gol! Eeeh! 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 Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Guardate! Oh, ma fa sapere una cosa adesso, se sei dietro dentro, perché stai'... Se l'hai dietro, Tommy, eh? fuori gioco stai, tirati indietro l'idea era buona ma no, dai è possibile è possibile questa no ho fatto fatti a me e da mezzo giorno che sto in giro per portarlo qua forza Tommy vai avanti Tommy io vorrei che gli facessero un lotto io vorrei che gli facessero un lotto ma tu non vai? ma spiuto? no no diore diore guardate lo sto fuori gioco guardate lo sto fuori gioco 12 minuti 12 minuti è il fuori gioco lo vedi che è in fuori gioco? è il fuori gioco è il fuori gioco no dietro ci arriva il portiere ci arriva ciosta ci arriva il portiere è stato bravo il portiere è stato detto una crampalla sotto sì guarda 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 no no era fuori gioco era fuori gioco era fuori gioco avanti 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 no ma portalo avanti la palla portalo avanti tu va portalo avanti io voglio riuscire io avanti dai 20 metri chi è? è probabilmente qui avanti avanti mi prende due metri avanti via che questa è buona via che questa è buona bravo 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 però fatto il movimento bene vai guarda 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 hai fatto L'hai fatta la commissione? L'hai fatta la commissione? L'hai fatta la commissione? Grazie a tutti.